E' la maggiore vetrina internazionale per il vino italiano e non solo. Anche il Molise da qualche anno a questa parte si sta ricavando uno spazio tra i giganti che su questo terreno dettano le linee guida, Piemonte-Veneto e Toscana su tutti. La 49esima edizione della Kermess di Verona si è aperta con un dato in negativo diffuso da Coldiretti secondo il quale in Italia negli ultimi sei anni il consumo di vino è precipitato. Ma la tendenza anche con l'Expo alle porte può essere invertita. Vinitaly è senz'altro un grande biglietto da visita per l'Italia e per Expo. E' un po' veramente la porta d'ingresso per conoscere una parte formidabile dell'esperienza agroalimentare italiana e in particolare delle storie del vino italiano che sono straordinarie. E quindi sì, qui praticamente è come se aprissimo Expo nei fatti. Delle 14.000 aziende agricole, la maggior parte delle quali ha conduzioni familiari, provano a sfondare anche quelle che si stanno dando da fare nel difficile settore del vino. Quest'anno il premio Gran Medaglia di Can Grande è andato alla cantina Valtapino, ritirata dal presidente Emilio Venditti. Ma quali sono le misure adottate dalla regione per sostenerli il settore? Lo stiamo già facendo molto bene, abbiamo recuperato anche questa capacità della regione di essere un'interfaccia presente e propositiva, avendo partecipato anche al Pro Wine, prima ancora al Salone del Gusto, avendo anche quest'anno ammodernato il nostro stand Alvin Italy. Quindi molto bene prosegueremo su questa strada. Questo può essere ancora più stimolante, probabilmente fino ad oggi non l'abbiamo fatto al modo in cui ci era chiesto di farlo, lo faremo per il prossimo futuro, abbiamo la possibilità anche di sfruttare la promozione che viene dalle misure del piano di sviluppo rurale. Quindi le risorse ci saranno, se sbaglieremo è evidente che non avremo avuto quella particolare attenzione per un territorio che può essere speso insieme ai suoi prodotti. Tanti gli appuntamenti del Vini Italy ancora da conoscere che verranno seguiti da una truppa di telemolise arrivata a Verona per l'occasione.